Ben trovati alle TG Medesport, ben trovato a Salvatore Geraci, responsabile delle produzioni sportive su TRM. Ben trovato Luca, ciao a tutti i telespettatori. Ci siamo interrogati sulle colpe di questa brutta sconfitta di Bologna. Non c'è neanche però tanto tempo per discute perché arriva il derby, tra l'altro con un giorno in anticipo, perché si gioca di sabato sera, però ci chiediamo se davvero è possibile mai che Gasperini sia l'unico colpevole o sia completamente esente dalle colpe. Trovare la via di mezzo non è facile, Salvatore. Forse trovare la via di mezzo è la cosa più giusta, ma una via di mezzo, intanto meno male, hai detto bene, meno male che c'è questo derby, così si parla poco di questa sconfitta. Ovviamente restano le scorie e queste dobbiamo affrontare. Il problema non è che Gasperini ha sbagliato o non ha sbagliato, il problema è più generale. Se vogliamo scaricare tutto sulla squadra è un errore gravissimo anche da un punto di vista psicologico perché immaginate la reazione dei giocatori quando vedono che loro hanno sempre colpe e gli altri invece non ne hanno mai. Se invece distribuiamo le colpe attraverso Zamparini, Gasperini e i giocatori troviamo un equilibrio e che è l'equilibrio giusto per ripartire dopo una brutta sconfitta. Ripartire dopo una brutta sconfitta con Ile Catania che tra l'altro lontano dal Barbera non ha un rollino di marcia così intenso come al Massimino. Ne ha parlato con noi a Rosennero un doppio ex, triplo se consideriamo anche la sua esperienza a Bologna e la recente trasferta del Palermo. Luca Cerconi, ascoltiamo. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.